post partita del Bologna più o meno ragazzi formazione titolarissima perché appunto sono tornati tutti i giocatori dagli infortuni, tutti sono tornati in forma ecco, il ritorno grandissimo di Tommiasu Danilo centrale, Sumaro che ormai è diventata la coppia centrale Dykes, il grandissimo ritorno anche suo Scouten e Svamber che più o meno è il centrocampo titolare, Scovose preferito da Orsolini ultimamente Soriano, Barro, Barro in questo caso preferito invece che Sansone anche se per me era meglio Sansone e poi Palacio e Punta è una formazione ottima direi, sono abbastanza d'accordo, a parte Barro però ci sta andiamo direttamente con la formazione della Sampdoria eccoci qua ragazzi, oggi Sampdoria con giocatori non al top secondo me cioè non come la solita formazione un po' subentrati dopo anche nelle riserve così, Audero, grandissimo portiere difesa normale, guarda pericolosa Ugello a mio parere in attacco Damsgar da Staratita che Candreva e poi vabbè Quagliarella che come avete potuto notare un gollettino ce l'ha fatto ecco normale, una formazione a mio parere come Rosa noi siamo su me superiore ma adesso andremo a parlare al meglio che partita è stata ragazzi? è stata una partita incredibile allora, se devo dirla tutta mi dispiace un po' per la Sampdoria perché comunque ha fatto una grandissima prestazione infatti sarebbe stata più meritata per loro ma sono contentissimo che sia andata così infatti abbiamo in questo caso a differenza del nostro solito abbiamo saputo concretizzare le azioni d'attacco che molte volte creiamo poi non finalizziamo mai invece stavolta abbiamo creato poco ma abbiamo finalizzato molto che dire, loro hanno fatto un errore all'inizio della partita che hanno preso un palo clamoroso sul nostro errore ovviamente e se avessero fatto gol lì non so come la partita sarebbe andata a finire perché conoscendo un po' il Bologna magari il morale sarebbe calato ma abbiamo reagito molto velocemente loro hanno fatto un grandissimo pressing comunque la Sampdoria ha giocato ha giocato veramente bene a mio parere infatti la classifica comunque parla molto chiaro nei loro confronti e niente dopo poi andiamo noi in attacco Palacio fa una cosa incredibile sulla fascia destra la butta in mezzo Baro doveva solo appoggiarla di testa e facciamo l'uno a zero e lì è incredibile cioè nel senso non è che abbiamo fatto tantissime cose noi però è stato il gol del vantaggio successivamente loro iniziano a riattaccare come al loro solito crossettino in mezzo di Augello mi pare e boom gol di Quagliara dal volo un bellissimo gol ragazzi mi pare rimparabile ha fatto il rimpallo per terra e poi cioè sul campo e poi è volata dentro quindi è stato un grandissimo e lì sul 1-1 mi ero un attimo preoccupato perché comunque la Sampdoria io la conosco più o meno quindi c'era un po' da preoccuparsi successivamente un primo tempo stabile fino a che c'è stata un'azione di Baro appunto che ho provato sul 2-1 un'azione di fortuna a mio parere perché comunque Baro l'azione di Baro è partita da un rimpallo vinto cercava il dribblaggio sui giocatori sulla difesa della Sampdoria un giocatore della Sampdoria gliel'ha colpita lui è riuscito a riprenderla è stato bravo nel passaggio finale Svamberg che sbaglia poco con il suo piedino fatato l'ha buttata dentro tutti abbiamo goduto fortissimo comunque gran azione incredibile è partita comunque da un'azione di fortuna che diciamo che a noi manca un po' il lato fortuna in campo e soprattutto di rimpallo a mio parere quindi diciamo che quel golettino lì è stato un po' così ma dopo il rimpallo è stata una grandissima azione e niente poi il primo tempo finisce abbiamo avuto altre occasioni ma difesa della Sampdoria abbastanza stabile e noi anche abbastanza stabili con il nostro duo da combattimento in difesa andiamo subito con il secondo tempo secondo tempo abbastanza stabile ma anche pericoloso ragazzi io devo sottolineare una cosa sul portiere ragazzi scusate ma questa va detta cioè oggi cioè ripeto il portiere è ritornato lo scandalo di un tempo il portiere è ritornato lo scandalo di un tempo c'è chi non sarà d'accordo c'è chi sarà d'accordo ditemelo nei commenti come al solito commentate che io vi leggo e vi rispondo niente cioè non sa quando uscire non sa intervenire sul pallone quando interviene non la riesce a tenere lì da sé cioè lì con sé non lo so ragazzi sono state delle azioni che c'era della paura che prendessimo gol sempre per colpa sua ecco quindi non mi sembra molto corretto spero che un giorno lo capiscono e non vedo l'ora che se ne vada per sempre da questa squadra perché il scopo dove abita finisce veramente male ma mi dissocio completamente comunque quindi l'ho tirato un po' al portiere ecco non è successo niente di che a parte un grandissimo tiro di Damsgaard quasi sotto al sete che è stato clamoroso è uscita di veramente 10 cm è stato è stato un tiro clamoroso e andiamo al nostro gol perché comunque non è che sia successe tantissime cose ecco che gol è stato palla ovviamente di Svamber sempre da un rimpallo vinto però era andato abbastanza cattivo quindi ci stava che la vincesse il rimpallo Soriano che vabbè riesce a inserirsi divinamente la butta dentro con la punta del piede proprio incredibile imprendibile c'è stato poi un gol nostro annullato sul 4-1 di Sansone che ci poteva stare perché rientrava dal fuorigioco quindi va bene poteva anche darcelo però per ridere e poi ossessivamente è stata un'azione di Sansone che tira centrale parata di Audero e poi Skovosen che ritira parata di nuovo tutte centrali che lì ti fa un po' pensare comunque poteva essere 4-1 eccetera beh comunque andiamo avanti ma niente è una prestazione secondo me anche dai dati statistici poi il risultato è questo qua ovviamente però dai dati statistici la Sampdoria è stata superiore in questa partita hanno giocato veramente bene sono contento che abbiamo vinto però la Sampdoria vanno dati meriti giustamente andiamo ragazzi alle valutazioni finali eccoci qua ecco le valutazioni finali andiamo subito con Skorovski ragazzi niente Skorovski andiamo avanti Tomiasu non era in formissimo oggi però ha giocato bene quindi positivo Danilo e Sumaro positivissimi di tutti e due Dijks pure anche se anche oggi non era in form ma ha giocato una partita splendida Skouten positivo Svamberg oltre la positività Skoworsen non non protagonista come a Napoli ma positivissimo Soriano beh andiamo avanti lui non ce n'è da parlare di Soriano ecco sempre positivo lui Barro ne parliamo un altro giorno e poi Palacio positivissimo perché comunque è ritornato in quel periodo della sua vita in cui è in forma è in forma e ne sono contento subentrati è entrato Dominguez che ha giocato una partita corretta è entrato appunto Sansone che è anche lui normale partita normale e poi anche De Silvestre apposito Miasu normalissimo e poi è entrato anche Orsolini che è infatti normale niente ragazzi sono contento perché finalmente possiamo dirci verso la tappa della salvezza perché abbiamo raggiunto questi fantomatici 31 punti come anche risultato 3 a 1 31 vabbè andiamo avanti sono contento perché questa era una partita che era assolutamente da vincere non era un avversario facile infatti non è stata non è stata facile però siamo riusciti ripeto a finalizzare al massimo e niente la prossima è col crotone speriamo eh c'è sempre da sperare perché fuori casa quest'anno non stiamo andando benissimo in casa stiamo andando molto bene ma fuori casa non troppo niente ragazzi io sono soddisfatto speriamo di continuare così con la prossima partita faccio i miei complimenti ovviamente anche alla Sampdoria ragazzi vi ringrazio ancora per il supporto che sta andando a questa serie se non avete visto gli altri episodi vi lascio sono sempre qua nelle informazioni in alto a destra cioè a destra è vostra qua credo vabbè comunque vi ricordo tutti i miei profili social in descrizione instagram personal giornate e twitch ragazzi sono in live dal martedì al giovedì dalle 21.20 vi ringrazio per avervi su questo video lasciate like e condividete e noi ci vediamo in questi giorni con un nuovo video e forza Bologna grazie a tutti